cresce a vista d'occhio il piccolo vitello nato il 21 dicembre 2022 come sappiamo sull'isola di culuccia gli animali possono muoversi liberamente verso le ore 15 di sabato 4 febbraio 2023 le telecamere di sicurezza hanno immortalato il piccolo insieme alla madre tina durante una passeggiata pomeridiana all'ingresso dello stazio biru in questi primi mesi di vita il vitello sta imparando molto dalla madre e dall'ambiente che lo circonda tina si prenderà cura del piccolo e lo nutrirà fino a quando non sarà in grado di nutrirsi da solo ci sono aggiornamenti circa il sesso pare proprio che si tratterà di un maschio in attesa della conferma del veterinario l'isola guarda con entusiasmo la crescita del piccolo vitello maschio e non vede l'ora di dire ufficialmente benvenuto sull'isola di culuccia piccolo angelo